Ciao a tutti, registro questo video al volo per mostrarvi le ultime novità di Luminar Neo. Da qualche giorno infatti è stato rilasciato un nuovo aggiornamento e volevo velocemente mostrarvi i nuovi strumenti introdotti. Innanzitutto vorrei spendere due parole sul nuovo look di Luminar Neo. Il software si presenta con un nuovo logo e alcuni aggiornamenti stilistici, tra cui anche nuove animazioni informative durante il caricamento e l'elaborazione dei task. Tra le novità più succose abbiamo poi Migliora Acqua, uno strumento che permette di regolare e perfezionare i colori dell'acqua in modo automatico con un semplice click. Come i tanti strumenti di Luminar che già conosciamo, grazie all'intelligenza artificiale Migliora Acqua è in grado di riconoscere automaticamente i diversi elementi presenti nell'immagine, consentendoci di applicare modifiche specifiche all'acqua senza influenzare il resto della scena. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di andare a perfezionare ancora di più la modifica con questi slider qui sotto, potendo regolare la luminosità, la saturazione e altri parametri come il colore per ottenere esattamente l'effetto che vogliamo. Con Migliora Acqua possiamo trasformare istantaneamente laghi, fiumi, mari e piscine in meravigliosi specchi d'acqua dai colori vividi e accattivanti. Ma non è finita qui, perché un altro strumento sempre basato sull'intelligenza artificiale strepitoso è Migliora Crepuscolo, grazie al quale possiamo esaltare ancora di più i colori magici dell'ora blu e della famosissima Golden Hour, ovvero il periodo di alba e tramonto in cui tutto si tinge di sfumature durate. Con Migliora Crepuscolo possiamo applicare rapidamente dei preset predefiniti appositamente progettati per creare atmosfere crepuscolari. Come vedete possiamo scegliere tra varie sfumature di colori, abbiamo Malva, Oro, Latte Scienza, Smeraldo e Blu. Ma anche qui possiamo andare a perfezionare i singoli valori con diversi slider, ad esempio possiamo alzare o abbassare l'effetto generale del preset, l'esposizione, oppure andare a modificare i valori e le temperature di elementi specifici come cielo, alba, scena e acqua. Infatti grazie all'intelligenza artificiale il programma è in grado di riconoscere automaticamente gli elementi presenti nella foto, potendo applicare modifiche specifiche. Per chi cerca ancora più controllo e precisioni nell'editing delle proprie foto, sono state introdotte due nuove maschere, selezione oggetto e maschera di luminosità. Selezione oggetto permette di creare maschere di oggetti e aree specifiche all'interno dell'immagine con un solo clic del mouse. Dopo un breve calcolo, Luminar riesce a distinguere i vari elementi presenti nella foto permettendoci di scegliere quale zona vogliamo modificare, utilissimo quando si vuole apportare modifiche selettive a delle parti specifiche, rendendo il processo di mascheratura incredibilmente rapido e semplice. La maschera di luminosità è una funzione di cui in effetti si sentiva la mancanza e sono felice che l'abbiano implementata. Questa maschera ci consente infatti di selezionare aree specifiche di un'immagine in base ai suoi livelli di luminosità, potendo apportare modifiche selettive ad alte luci, mezzi toni ed ombre con estrema precisione. Non dimenticate che per sfumare la selezione potete utilizzare questi piccoli triangolini qui sotto e come vedete la maschera sarà molto meno netta e il risultato più naturale. Infine anche l'estensione fusione HDR riceve un aggiornamento, potendo gestire contemporaneamente più baci di immagini. Vi avevo parlato delle estensioni in un altro video che vi lascio in alto e in descrizione, per cui mi raccomando non perdetevelo, ma in ogni caso con questo nuovo aggiornamento non solo possiamo ottenere risultati HDR impeccabili con il minimo sforzo, ma è possibile elaborare anche più baci di immagini HDR simultaneamente, risparmiando tempo prezioso e semplificando il processo di postproduzione. E poi, potendo elaborare fino a mille immagini contemporaneamente, il bacio HDR si rivela particolarmente utile per i fotografi che lavorano con grandi volumi di immagini. Bene, e queste sono le ultime novità in casa Skyloom, fatemi sapere qui sotto nei commenti se le avete già provate e cosa ne pensate, mentre vi ricordo che è ancora attiva la promozione su tutti i piani di abbonamento, in descrizione trovate il link alle offerte e il mio codice promozionale per ottenere un ulteriore sconto, mi raccomando non perdetevelo! Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo video, ciao! Ciao! La prima volta al video, è Committeevedore!